Ciao Cinefusi.it, oggi parliamo di Bad Boys for Life, il terzo capitolo della trilogia iniziata nel 1995 diretta da Michael Bay, carino, niente di così eclatante per me ma comunque carino, continuata poi nel 2003 sempre da Michael Bay, meglio del primo ma ancora niente eclatante e adesso siamo arrivati al terzo film, Bad Boys for Life, uscito il 20 febbraio nelle sale italiane, diretto però non più da Michael Bay, re delle esplosioni, delle sparatorie, ma da El Arbi e Falla che mi è piaciuto ancora di più del primo e del secondo, non dico che sia un capolavoro ma è bello e riesce comunque ad essere una trasciata così come deve essere perché comunque va preso per quello che è ma c'è anche ben altro alla fine e come cosa l'apprezzate? Anche Falla e Larbi sono stati bravi perché comunque hanno fatto una regia adeguata per quel tipo di film che dovevano fare, nel senso che comunque è frenetica quando deve esserlo, riesce a seguire bene i due protagonisti, riesce a far vedere quanto sono più vecchi rispetto a prima c'è Marcus che è anche più grosso e quindi te lo fa vedere proprio bene. E sono stati quindi i due registi veramente veramente bravi e questo film infatti, altro al fatto che la critica ne sta parlando bene, anche gli incassi stanno dimostrando che comunque questo film vale. Perché è stato pagato, hanno avuto un budget anzi di circa, hanno avuto un budget di 90 milioni di dollari circa e ne hanno incassati per ora 393, siamo lì comunque, sono un'ottima cifra. Di che cosa parla però questo film? Parla di Mike e Marcus che sono per l'appunto invecchiati, c'è Mike che si tinge il pizzetto, c'è Marcus che è più grosso e che vuole però quest'ultimo andare in pensione perché gli è anche nato un nipotino e quindi vuole godersi la sua famiglia. Mike invece non ha nessuna, non ha nessuna famiglia, l'unica famiglia che ha è quella di Marcus, Marcus compreso perché sono i migliori amici, però vuole continuare Mike a fare questo mestiere, non vuole mollare, vuole ancora mettersi in gioco, pensa che comunque è ancora in grado di farlo. Saranno costretti però entrambi a lavorare per un'ultima volta insieme nel momento in cui un criminale messicano insieme a sua madre metteranno un po' di caos, come uccidendo delle persone che sono legate a Mike, il personaggio di Will Smith e cercheranno anche di uccidere Mike. E perché ce l'hanno così tanto con Mike? Lo scopriremo nel corso del film che vi dico, rimanete durante i titoli di coda. E questo film io l'ho apprezzato soprattutto perché? Perché vi è un rapporto generazionale tra vecchi e giovani, innanzitutto ci sta naturalmente la canzone Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do, what you gonna do, what you can't pour you. Io penso di sbagliare qualche parola, anzi senza penso, sbaglio un pochino qualche parola come fa Marcus nel film, però a questa canzone viene anche accostata un'altra che è nuova, cioè il ritmo dei Black Eyed Peas e di Balvin. E questo è importante, è importante perché comunque tutto il film si basa proprio sul non sostituire ma comunque accostare i giovani ai vecchi, bisogna fare spazio ai giovani. Quindi lo vediamo anche che è un personaggio comunque che è un pochino più vecchio, una certa, si farà da parte, non vi dico come, non vi dico perché, così però da quel momento in poi i giovani che aiutano i Bad Boys, perché comunque loro sanno che da soli a questa età non possono fermare una cosa del genere, dei criminali del genere. Da quel momento i giovani saranno molto più importanti e questo è interessante, interessante perché non è che viene tutto reso in maniera pesante, ma è tutto leggero, si nota, ma anche dalle piccole sottigliezze lo si può notare. Ad esempio il fatto che Marcus non riesce a prendere la pistola al volo, il fatto che Marcus senza occhiali non ci vede e quindi spara un pochino, come si dice alla cazzo di cane. C'è Mike che appunto si tinge il pizzetto e comunque, come ho detto, lui fa più errori. Fa più errori, però entrambi in questa cosa, grazie a questa cosa, sono ancora più esilaranti rispetto a prima, perché si punzecchia una vicenda, come li abbiamo già visti nei precedenti film, ma qui ancora di più quasi. E anche ci sono delle scene esilaranti, non soltanto le scene d'azione, che comunque qua non ci sono soltanto sparatorie, ci sono anche più combattimenti corpo a corpo. Ma anche le scene dove non ci sta azione, ma comunque ti fanno veramente ridere, come il viaggio che fanno in aereo Mike e Marcus, che apparentemente è un pezzo esilarante. E anche qui comunque è come un Fast and Furious, che comunque cerca di rimarcare sempre il senso di famiglia, famiglia, famiglia. Anche qui comunque il senso di fratellanza, di unità. E comunque sono due film che alla fine quasi si assomigliano sul fatto che comunque sono trash, sono trash entrambi i film, anzi entrambe le saghe e trilogie. Comunque ci sono corse, macchine, sparatorie, Fast and Furious poi più avanti, più e sempre meno macchine, sempre più sparatorie. Questo Bad Boys invece mette insieme entrambe le cose, ci sono infatti sparatori insieme, mentre proprio ci sono corse con le macchine, non corse di gare, ma corse proprio vere e proprie. Ed è per questo che comunque il film a me è piaciuto, perché comunque è trash sì, ma anche offre uno spunto molto interessante, spazio ai giovani, largo ai giovani, ma è tutto molto molto divertente e comunque è veramente spassoso. Qui è tutto, ciao cinefusi.it